Io sarò breve perché ci siamo anche, ma sono brevissimo. Qualche giorno fa mi ha chiamato Matteo Salvini e mi ha detto senti Vincenzo, senti professore, facciamo il cantiere e vogliamo fare la rivoluzione verde. E mi ha detto, ah, mi sono gasato subito. Poi dopo ho capito che rivoluzione verde non significa solo quel verde che io intendevo, ovvero l'ambiente, ma si sposano bene le due cose. Comunque, certo che parlare di ambiente, solitamente l'ambiente è relegato ad altri movimenti. Quindi Brunetta l'ha scritto tempo fa, un bellissimo pamphlet, l'ha scritto Verdi fuori, rossi dentro. E l'ambiente invece è una cosa molto importante, è un valore innanzitutto, non è una materia. L'ambiente è un valore onnicomprensivo, nel senso, prima si diceva, ah, l'ambiente, arrivano gli ambientalisti, non ti faranno fare niente. E si confondeva, e a volte ancora si confonde, l'ambiente con la natura. La natura, nascor, cioè ciò che vive, flora e fauna, è un elemento dell'ambiente. L'ambiente è una nozione molto più complessa, dove dentro c'è tanta materia. La stessa Corte Costituzionale, quando ha dato una definizione di ambiente, l'ambiente è un valore trasversale. Questo, ad esempio, è il nostro ambiente. E vedete, questo ambiente non è solo flora, non ci sono solo i fiori, non ci siamo solo noi. Ma c'è il costruito dall'uomo, c'è questo palco, c'è il baguette. Quindi l'ambiente è una nozione molto complessa, dove dentro c'è la natura, ma c'è anche la cultura, c'è l'uomo. E certamente questa, se l'ambiente è una nozione complessa, dove c'è l'aria, c'è il suolo, ma c'è anche l'uomo con la sua tecnologia, l'ambiente è la qualità della vita. Cioè io voglio vivere in un buon ambiente. Certe volte mio figlio, quando va in discoteca, dice papà, c'era un bellissimo ambiente. Che cosa è bellissimo ambiente? C'era una musica bellissima. Quindi anche la musica, vedete, immateriale, elementi immateriale, ma che fa parte dell'ambiente. E l'ambiente è che cosa? Il territorio. E perché il territorio è ambiente? Vedete, il territorio è non solo risorsa naturale, l'acqua, la flora, la fauna. L'ambiente è essenzialmente lo stile di vita. C'è le persone che stanno sopra, con le loro diversità. E quindi l'ambiente non è solo la qualità della vita, ma l'ambiente è anche la diversità. La diversità che sono le tradizioni e l'identità di ogni territorio. E se l'ambiente è l'identità di ogni territorio, anche la difesa è complessa, ma le identità vanno tutelate. E mi piace qua dire, l'avevo detto anche qualche anno fa, che l'esigenza di tutelare le diversità dei territori, quindi flora e fauna e anche cultura, che tradizione, che dialetto, che stile di vita, significa anche sviluppo sostenibile e quindi l'autonomia. E mi piace ricordare Cattaneo. Perché Cattaneo che cosa aveva immaginato? Aveva immaginato l'Italia unita, ma federale. Significa la tutela delle diversità. Ognuno di noi che viene da una diversità deve essere orgoglioso di questa diversità. Anzi, non solo deve essere orgoglioso, ma difenderla perché significa ricchezza. E la ricchezza è lo stile di vita io da dove vengo. E vedete, c'è un mio amico filosofo che mi dice sempre l'ambiente è i beni culturali, il centro storico. Il centro storico va difeso, ma va anche promosso e valorizzato. Vedete, il centro storico, architettura, non è solo la geometria dell'architettura. Il centro storico è essenzialmente la memoria. Il centro storico è essenzialmente chi ha toccato quella pietra, che parla. E allora vedete l'ambiente com'è territorio, com'è identità. Ma il pensiero ambientalista che ancora oggi in Italia ha molta voce in capitolo è un ambientalismo che ho chiamato fondamentalista. E ogni fondamentalismo prima o poi nuoce alla causa è un fondamentalismo ideologico, è un fondamentalismo quello del no a priori che non applica per niente il metodo scientifico. Nel senso, quando bisogna dire no e quando bisogna dire sì. A secondo, il rischio che ogni tipo di attività comporta. Ed è questo il valore dello sviluppo sostenibile. Chi dice no a priori è, scusate la volgarità poca accademica, una cazzata. Perché? Perché ogni sviluppo comporta un rischio. Ogni attività comporta un rischio. Io nel momento in cui passeggio o vado in bicicletta o vado in aereo calcolo il rischio, il fabbro che fa il fabbro, calcolo il rischio e il rischio lo accetta quando è sostenibile. Se mi butto dal vendesimo piano per provare l'ebbrezza del volo sicuramente per la mia salute è insostenibile. E la tecnologia non va demonizzata in modo a prioristico. Perché vedete, se l'aspettativa di vita nostra oggi supera gli 80 anni, anzi c'è qualcuno che pensa di vivere oltre 100 anni, questo sarebbe interessante capire il perché, è grazie alla tecnologia. La tecnologia non va demonizzata, la tecnologia va resa sostenibile. È la TAV. Io mi pongo sempre questo... Io sono 20 anni, 25 anni che studio questi problemi, scrivo libri. E quando ci sono quei comitati, forse sono anche amici di Matteo Salve, ma non penso che sono le femministe arrabbiate, i centri sociali, quelle che vanno a bloccare le ferrovie perché dicono no alla TAV, non vanno in ragionamento scientifico, che forse le ferrovie vanno incentivate per la mobilità sostenibile e che le ruote provocano un danno all'ambiente molto più gravoso, molto più oneroso rispetto alla mobilità sostenibile che è sul rotaio. Io avevo scritto un libro tempo fa, sono andato a presentarlo a Palermo, non con Giorgetti, quando presentavamo il libro del nostro amico, un libro mio che non è il mio giardino, qui nel Fetto Nimpi, e dei giovani mi contestarono, io faccio il professore, venivano dei giovani che pensavo che venivano perché volevano discutere, dialogare con me su perché non è il mio giardino, quindi l'ambientalismo responsabile, responsabile e questi se non si presentarono, no, noi siamo no TAV e noi siamo contro di lei, professore, perché lei ha scritto un libro dove dice che è favorevole alla TAV. Io disse, voi fate bene a contestare, perché i giovani devono contestare per rivendicare il diritto delle generazioni future, ma sapete che tra Messina e Palermo c'è un solo binario, c'è il treno per andare da Messina, deve aspettare che quello torna. Voi dovete fare la contestazione per avere una buona qualità della vita che è data anche dalla tecnologia. Una delle proposte è l'educazione ambientale nelle scuole. Vedete, l'educazione ambientale come disciplina obbligatoria, come l'educazione musicale, come l'educazione fisica. È importante per il comportamento che ognuno di noi deve avere nei confronti della risorsa naturale. deve, al di là della norma, pensate quando si parla di rifiuto, il rifiuto ad esempio, quando devi fare la differenziata a casa sei solo tu, con la tua etica, cioè il processo costituente della morale, che è l'ethos. E ovviamente tutelare, ma anche valorizzare e promuovere l'ambiente significa tutto quello che prima ho sentito, molto bene, significa l'enogastronomia. E vedete, quando si parla di enogastronomia, non è solo l'enogastronomia o il made in Italy soltanto il cibo, che è diverso da regioni e regioni, ma è essenzialmente l'identità. E il made in Italy è questo, che va tutelato, va protetto, non come hanno fatto in un semestre recente da parte dell'Italia. e vedete la desertificazione, che è un altro elemento molto importante nell'ambiente, la desertificazione che non è solo desertificazione nel senso di terreno che non produce più. La vera desertificazione in questo momento in Italia, sapete, è la desertificazione sociale. Ci sono i centri, ma non solo quelli piccoli, anche i grandi centri, che si desertificano. C'è un calo demografico progressivo, ma ancora di più un invecchiamento sempre più forte della popolazione e questa non è solo perdita di biodiversità naturale, ma anche di biodiversità culturale, che significa perdita di identità. Bisogna l'ultima riflessione è sull'energia, che è molto collegata alla problematica ambientale. Voi sapete che c'è stato l'accordo globale sul clima, COP21, a dicembre, e veramente l'impegno deve tradursi poi in politiche ambientali e energetiche, che significa abbassare di due gradi. Ma 36.000 persone in Italia, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, muoiono, in Italia muoiono ogni anno 36.000 persone per le polveri sottili. Quella cappa che vediamo, non sulla pianura padana, ma su ogni città, c'è una cappa, e noi respiriamo quell'aria e muoiono 36.000 persone. Quale strategia vera per far sì che vi sia una buona qualità della vita, ma vi sia anche la tutela della salute? Il futuro nelle città è un futuro green, ma l'Italia è molto indietro. Io ricordo quando ho iniziato a parlare cinque anni fa delle macchine elettriche nelle città, dovevo fare una trasmissione e non c'era la macchina, ma non solo non c'era, ma non c'era neanche il video, e mi disse questo è il professore che vuole giocare con le macchinine elettriche, mi disse un autore. E io ricordo quando Fiat, Eni, dicevano no all'elettrico. E oggi la Francia si permette di dire che fra tre anni nelle città, ma anche nelle città del nord, non entreranno più macchine a scoppio. Non entreranno più. Noi siamo fortemente indietro rispetto alla rivoluzione. Questa è la rivoluzione green. Cioè far sì che la mobilità nelle città sia una mobilità sostenibile, noi siamo fortemente indietro, così come sull'energia, in genere. Se io chiedo a voi, scusatemi, sapete dire con precisione quali sono le tecniche di produzione di energie che in questo momento l'Italia ha, in percentuale molto alta, che non è solo rinnovabile, perché mi piacerebbe molto parlare di geotermia o di idroelettrico. Non voglio parlare neanche di carbone, delle tre grandi centrali che ci sono a Brindisi, a Civitavecchia, quel problema di La Spezia dove muoiono effettivamente le persone. Noi non abbiamo cultura energetica. Al meglio, la cultura energetica nostra è in due momenti, quando arriva la bolletta energetica a casa, perché mia moglie mi dice sempre ah, mi hai visto, tu non spegni le luci, e arriva una bolletta energetica così alta, o le aziende che si delocalizzano. Perché si delocalizzano? Perché noi paghiamo il 40-50% in più di energia elettrica rispetto ad altri paesi. Ma perché noi non sappiamo leggere neanche la bolletta energetica? Io sfido qualcuno di voi a leggere la bolletta energetica. Ma perché? E il problema è perché non volevano e non vogliono ancora oggi che noi abbiamo cultura dell'energia. Perché avere cultura dell'energia significa poter alzare il dito e dice ma forse ci sono troppi carrozzoni in Italia che vanno a investire all'estero invece di ammodernare la rete. Quella rete del sud o dei piccoli centri che quando fa il blackout, cioè quando arriva un fulmio, un po' di acqua, un po' di temporale, non avete più l'energia. E allora la cultura energetica, voi sapete perché l'energia si fanno le guerre. Perché energia è democrazia. Si fanno le guerre. allora io ritengo che bisogna creare cultura ambientale che anche cultura dell'energia. Poi liberalizzazione del mercato, il dibattito attuale, liberalizzazione del mercato elettrico italiano. Eh, lo voglio vedere. Attualmente non si vede, voi sapete che l'80% è sotto tutela quindi è dal monopolista di fatto. A modernare la rete io mi sono beccato una querela perché su un giornale avevo detto che invece di andare a investire in Brasile bisognava modernare la rete soprattutto la rete nei centri montani laddove c'è una rete degli anni 60 degli anni 70 che neanche nelle città sarà adeguata per le colonnine elettriche per le macchine. Mi sono beccato una querela poi mi è andata bene perché essendo anche presidente di un movimento ambientalista sono portatori di interessi diffusi e quindi il ditto di critica mi era dato come pure della decarbonizzazione oggi ho parlato ma la formazione forse di un mercato europeo sulle tecniche di produzione questo potrebbe essere interessante poi come si fa l'efficienza e il risparmio energetico questo è un bel tema che parte sempre dal diritto alla conoscenza io penso che in un cantiere un certo Latouche in questo cantiere un certo Latouche non so se voi lo conoscete che ha scritto molti testi un francese il quale ha teorizzato la decrescita felice io in verità l'ho chiamata infelice perché non significa guardare avanti e lui è molto vicino a quei centri sociali a quelle femministe arrabbiate a quelle a quelli che dicono no a tutto ma no soprattutto alla qualità della vita ma poi vengono fermati sull'alta velocità quando gli vengono notificate poi alcuni avvisi di garanzie il futuro qual è? la ragionevolezza dell'ambientalismo e lo sviluppo sostenibile cioè lo sviluppo che si deve coniugare con la sostenibilità e quindi contro ogni fondamentalismo ma l'ambientalismo non ideologico l'ambientalismo della ragionevolezza l'ambientalismo quello di un paese moderno un paese che non deve dire no a priori alle infrastrutture che servono servono per il turismo le infrastrutture che servono per quel traffico di merci che arriva da Suez e se non va a far sì che la Germania sia uno dei porti più importanti del Mediterraneo la Germania dall'altra parte allora un ambientalismo intelligente quello è quello che un cantiere dovrebbe porre in essere e chiudo dicendo che persino il Papa Papa Francesco nella sua enciclica Laudato sì ci esorta a compiere la rivoluzione verde che non so se è la tua però mi piace questa cosa la rivoluzione verde nella concezione che la libertà deve essere responsabilità la libertà e io ricordo chiudo un grande filosofo Gadamer che io ho avuto l'avventura di conoscerlo per chi mi occupa un po' di dottrina dello Stato e quando io fecevo gli studi sull'ambiente chiesi al grande filosofo Gadamer verità e metodo quindi un grande filosofo del novecento dissi ma che cosa è l'ambiente per lei e lui mi rispose libertà io all'inizio avevo quasi più di 90 anni dico forse non ha capito la domanda dico l'ambiente con la libertà non capivo anzi potrebbe essere tutto il contrario e io mi sono fatto coraggio e richiese a Gadamer ma l'ambiente secondo lei che cos'è e lui mi dispense libertà poi capì che io non avevo capito e mi disse perché che cos'è la libertà la libertà essenzialmente la responsabilità e infatti l'ambiente deve essere la responsabilità che ognuno di voi deve avere nei confronti delle risorse naturali ma soprattutto del diritto delle generazioni future e forse Papa Francesco questo voleva dire responsabilità e amore grazie 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 a tutti